Rocchi, Sarate, Sarate e autogol di Vives su calcio d'angolo battuto da Sarate. Io più mi riguardo quel rigore e più mannaggia la miseria. Perché non l'hai tirato così a Udine? Perché? Accidenti a te. A proposito di Sarate e anche di tutti gli altri, che succede a Formello adesso? Secchiello e Paletta? Sì, innanzitutto ne approfitto... No, fra poco, fra pochi giorni. Ne approfitto per fare gli auguri a Giovanni Lopez, perché oggi è il suo compleanno. Quindi l'allenatore in seconda di Reia, oggi compie 44 anni, quindi auguri. Allora, iniziamo col dire che la tournée che doveva portare a Lazio a Teheran dal 24 al 29 maggio è stata annullata. Questo già da qualche giorno. O Spirono e sollevano negli spogliatori. Esatto. Fino a mercoledì la Lazio si allenerà. Giovedì ci sarà il rompere delle righe, quindi ci sarà vacanza per i giocatori bianco-celesti. Proprio mercoledì l'allenamento sarà seguito da un pranzo e da un brindisi per salutarsi. E molto probabilmente ci sarà l'ultima conferenza stampa della stagione. Aspettiamo conferma, al momento non è programmata. Di EDI, insomma, è un'idea. Il saluto del tecnico. La squadra si ritroverà a Oronzo Dicatore. E tra l'altro sono uscite le date da poche ore. Sono dal 10 al 30 luglio. Quindi, come l'anno scorso, tre settimane. Anche l'anno scorso Rea aveva fatto il ritiro di tre settimane. E non sarà l'unico periodo di ritiro? No, perché poi in agosto Lazio si ritroverà a Fiugi per preparare quello che sarà il preliminare di Europa League e l'inizio del campionato. Date 18-25 agosto il play-off di Europa League. Quante ne sa il nostro Alessandro De Dilectis? Torneremo da te, perché poi bisogna cominciare a parlare di mercato. Va bene che è finito da poco il campionato, ma ai tifosi interessa questo. Interessa davvero questo? Lo chiedo a Ramona Marconi, giù in redazione. Ramona! Non devi fare così. Come stai? Devi mantenere la calma. Il calciomercato è sicuramente l'argomento più trattato. Tipo, ecco, Francesco ci chiede. Fonti attendibili da Nollichstanner alla Juve. Al suo posto, come vedete, Cassani a destra e Crescito a sinistra, con Radu finalmente al centro della difesa? Questa è un'opzione grazie al... No, nel senso, è un'ottima opzione, però le fonti attendibili, che non sappiamo quali siano del nostro amico, qua mi inserisco io, significa clausola da 12 milioni, che è una bella cifretta. Cassani-Crescito? Cassiani-Crescito è una gran coppia. Costano 30 milioni in due, però dovremmo dire al nostro amico. Ma vogliamo pensare a Palumbo? Palumbo? Anche Palumbo, Costicchia, non sarebbe male... E' un uomo di grinta, uno che serve alla Lazio. Ce ne stanno tanti intorno a Palumbo. Ma uno sforzo il nostro presidente lo dovrebbe fare. Eh, Palumbo potrebbe essere... Nella zona nevralgica del campo. Potrebbe essere uno dei giocatori che proprio servirebbe alla Lazio. Di grinta, di corso. Anche perché nella Lazio il titolare è Brocchi che ha 35 anni, Palumbo è un 81, ne ha appena 30 ed è un tipo bello tolto. Ma Palumbo sarebbe l'appoggio poi secondo me incredibile per Hernanes e Ledesma. Con Palumbo e Ledesma possono giocare quattro Hernanes probabilmente, per la forza che hanno. Ramona, domanda veloce per Stefano. Fabrizio ci chiede, ogni giorno alla Lazio vengono accostati emeriti sconosciuti. Ma è così improponibile sperare di vedere arrivare una squadra così importante come la Lazio, un top player che ci faccia fare il salto di qualità? Beh, un attimo, Fabio abbiamo parlato comunque di Cassani e Criscito che sarebbe una coppia eccezionale. Sul top player tu pensi, nonostante quello che abbiamo sentito da Lotito, che possa arrivare un nome stuzzicante, no? Ereia che ha parlato di quei tre nomi per l'attacco, uno dei tre sarebbe stuzzicante. Soprattutto a te Gilardino piace. A me piace da morire. Chi? Quello è un top player. Gilardino, ho capito, però arriverà, non lo so io se arriverà. Guarda che Gilardino è uno che va in doppia cifra tutti gli anni. Alla Lazio serve uno di quelli, poi magari può piacere o non piacere, però comunque... Ma noi abbiamo Kozak, facciamo una scommessa sul giovane e mettiamoli in centro campo solido. Tanto il calciomercato è un gioco, io farei anche un po' di cassa, perché un giocatore come Lick Steiner, se la Lazio riuscisse a fare 11-12 milioni di euro... Ma quella è la clausola, non c'è trattativa sotto quella cifra. No, no, sto dicendo, se riuscisse a fare nel senso, se ci fosse una squadra... Piace alla Juve ha altre cifre e quindi non se ne parla neanche. Ma non è trattabile, è una clausola. Nel parco attaccanti, malgrado ci sia l'Europa League, comunque con il ritorno di Rocchi, che può inserirsi nella Rosa, dove ci sono appunto Rocchi, Zarate, Kozak e Floccari... Via Floccari! No, adesso questo lo stai dicendo tu. Povero Floccari! Questo lo stai dicendo tu, però insomma, io farei cassa con la cessione di un attaccante per comunque andare sul mercato... Si fa cassa con uno solo, non è che l'hai detta generica. C'è un solo attaccante di questi quattro con i quali si fa cassa. No, no, anche lo stesso Floccari, oltre a Zarate. Con Floccari fai cassa. Beh, voglio dire, comunque 5-6 milioni di euro... Di 8 milioni non è la stessa cosa. Vabbè, però sai, unisci gli 11, già diventano 16, ai 5-6 già diventano 16-17 e trovi un... Io per esempio la butto lì, tanto ripeto, il calciomercato è un gioco, io non sono deputato a fare il calciomercato della Lazio e non voglio anche avere la presunzione di dire la verità. Però voglio dire, magari c'è Oddo che sta dicendo che gli piacerebbe ritornare a giocare alla Lazio, se dovesse andare via l'Istainer... Vero, lo posso confermare. Se dovesse andare via l'Istainer per una cifra del genere, io Oddo me lo riprenderei, che sicuramente costerebbe una cifra molto più abbordabile, spenderei tutto il resto per un attaccante di valore. Beh, è un ingaggio da ancora da canzionare di nuovo. È ovvio che Oddo verrebbe alla Lazio sapendo di Torezzi... Ma perché sei così fissato con l'attaccante? Sei un regliano? No, serve un attaccante che faccia... Ma non sono meglio quattro giocatori che fanno otto reti per uno, per esempio... Oppure un attaccante che giochi da attaccante, è una cosa rivoluzionaria. Ma vi blocco soltanto un attimo perché ci torniamo, sarà dedicato quasi interamente al mercato il prossimo blocco, e anche ad ascoltare delle parole davanti alle quali veramente ci metteremo, se non in ginocchio, abbasseremo la testa. Un giocatore da quattro soldi proprio. Un giocatore che ha giocato poco poi. Augusto? No, lui... Ah, non era lui. Il proprio coronato di alloro. Torniamo subito, 1900... C'è un mito, forse pure due. Chi è, Katia? Perché, oltre al fatto di essere laziale e presidente di una delle sezioni della Polisportiva, stiamo chiacchierando amabilmente con Giorgio D'Arpino. Per un motivo ben preciso, validissimi quelli che abbiamo enunciato fino adesso, per carità. Ma ce n'è uno più importante. Dato che a due mesi dalla scomparsa di quello che un po' un papà di tutti i laziali lo è stato, Bob Lovati, Giorgio D'Arpino ha fatto qualcosa di concreto e assolutamente meritorio per onorarne la memoria. Beh, come io dico sempre, io nella mia vita sportiva ho avuto tre grandi papà. E sono stati Nostini, Musumeci Greco e Bob Lovati. Perché i miei due sport di riferimento sono stati il fioretto e il calcio. Intanto vediamo immagini che si riferiscono alla mattinata dell'amorvolle, un tuo orgoglio, una creatura. Questa è l'undicesima edizione, ormai è una manifestazione consolidata in Roma. Tutte le scuole la aspettano per passare questa mattinata appunto così all'aperto, giocando e principalmente per aiutare bambini che sono stati meno fortunati di questi che fortunatamente hanno tutto e riescono a divertirsi. Tornando al primo argomento, questa intitolazione... Nel momento ho ritenuto opportuno, necessario e doveroso cercare di far ricordare com'è nel motto della Lazio Pallavolo, un grande passato per un grande futuro. E quella frase è importantissima perché nel nostro passato c'è talmente tanto che noi non dobbiamo permettere ad alcuno di portarcelo via o di farlo dimenticare. E non è un caso che insieme a Casa Lazio e Bob Lovati io abbia presentato la fondazione Ex Atleti Bianco Celesti proprio perché fanno parte di questo background che per me è importantissimo. E io nel nostro centro avremo un bel museo, ma una storia, ma non in una maniera, come posso dire, pesante. Non un mausoleo, ma molto dinamico e addirittura sarà un punto di riferimento anche per la musica attraverso l'associazione Minueto di Leda Bertè, con la quale appunto porteremo avanti questo progetto musica, sport e solidarietà. Continueremo a seguirti, Presidente, perché ci dai tante soddisfazioni. Parlo proprio da Laziale e non da giornalista in questo caso. Ma poi il criterio proprio del fare, no? E' bello sentirlo parlare. Sette anni di sofferenza, eh? No, ma a parte la sofferenza, non sofferenza, nella vita è sempre bello sentire che ci sia qualcuno che fa, fare, 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 perché sono quelle le cose che portano avanti, che danno vitalità a qualsiasi cosa, no? Come dire che i rigori li sbaglia soltanto chi li tira, no? Cioè, voglio dire, soltanto complimenti. Bravo, Presidente. Complimenti al Presidente, passiamo, e non è, sarebbe stato difficile passare da questo argomento a qualsiasi altro, noi da un mito passiamo a un altro a questo punto. Il contributo che ha rivisto dopo cento anni, cento due, Stefano Benedetti, tornare a vestire i panni del cronista, Stefano Benedetti ha intervistato, niente po' di meno che, Dino Zoff. Innanzitutto, piacere di ritrovarti, caro, caro mister, come si chiama? Mister Presidente? Io non lo so. Zoff, però mister va bene. Che stagione hai visto? Che stagione è stata? Beh, diciamo, è stata una stagione così generale, buonina, ecco, perché il campionato è stato interessante perché tante squadre potevano competere per la Coppa dei Campioni, però a livello tecnico, a parte il Milan che aveva qualcosa di più, le altre squadre, l'Inter è partita così così, poi le altre e tutte avevano la grande possibilità di andare in Coppa dei Campioni. Senti, sei più contento che sei arrivata quarta alla tua Udinese o forse meritava più la tua Lazio? Ma sai, io sono simpatizzante un po' da Udine per le radici, ecco, anche se quando sono stato a Udine io sono stato meglio la Lazio, quindi questo è chiaro, perciò no, secondo me la Lazio aveva avuto grandi possibilità quest'anno di andare in Coppa dei Campioni, ecco, credo che se le sia mangiate. Ecco, io penso che ci sia più rammarico che contentezza nell'anno in cui, correggimi se sbaglio, Juventus e Roma comunque non rispettano le loro aspettative e la Lazio si ritrova sotto a Napoli Udinese, vuol dire che forse la Lazio avrebbe potuto fare qualcosa in più? No, no, io sono convinto perché il potenziale della Lazio secondo me è superiore anche a Napoli, eccetera, e quindi purtroppo è andata così, ecco, certo, un campionato, la stessa Fiorentina che parte con tanti infortuni, Iovetic, tu non c'era mutuo, eccetera, quindi ha fatto un campionato così, perciò si era aperta un'autostrada, è andata male. Senti, che cosa serve alla Lazio, tu che sei comunque un osservatore attento perché ormai sei un romano, anche se d'adozione, ma ormai un romano conclamato, quindi segui da vicino le vicende laziali, che cosa serve per fare quel piccolo salto di qualità, senza scendere nei nomi, ma magari nei ruoli? Ma guarda, la Lazio, ho io una grande considerazione per il potenziale, quindi per migliorarla bisognerebbe fare qualche investimento dove giustamente l'allenatore dice, sostanziosetto, ecco, perché la base è già ottima, secondo me, quindi non è che si possa prendere qualsiasi, sì per completare la rosa, però se vuoi migliorarla magari devi fare qualche investimento abbastanza sostenuto per dargli quel qualcosa di più. Cominciare dal numero uno? No, io non faccio questo. I portieri, tu te ne intendi? No, però non tiratemi in mezzo a queste cose. Senti, l'ultima cosa, Europa League, l'anno scorso la Lazio stava per rimetterci le penne rischiando la retrocessione, quest'anno è retrocessa la Sampdoria, non solo per il problema Europa League, come si deve attrezzare una squadra per essere dignitosamente competitiva in campionate in Europa League? Ma io credo che non abbia bisogno assolutamente la Lazio, così com'è non ha bisogno assolutamente di niente o se non vuole fare qualcosa di più, però non credo che ci siano, la Sampdoria è stato un caso particolare quest'anno perché in una squadra gli togli due giocatori più importanti, tutti gli altri perdono convinzione, eccetera, quindi non è che perdi solo due giocatori ma ne perdi 11 e questa è la musica. La Lazio può fare Coppa e Campionato tranquillamente, certo se arriva qualche qualcosina in più tanto meglio, però insomma non c'è problema. Grazie mister Presidente, Presidente Mister, grazie Dino. Grazie a voi.